Siamo qua per affermare un'idea che è un'idea di democrazia contro un potere oligarchico che si è creato in Liguria, contro una serie di potentati che l'hanno dominata, che l'hanno portata a una fase di declino e che soprattutto hanno sfasciato in modo pericolosissimo la sanità pubblica. Noi oggi vogliamo imprimere una svolta alla Liguria che consenta di garantire l'accesso alle cure a tutte e a tutti i Liguri, soprattutto ai più anziani, in una regione dove la migrazione sanitaria è la più alta del nord Italia.